La squadra d'attacco ha trovato una bomba. Prepararsi all'azione nemica. Cambio il caricatore! Stratola, state alla larga. Imboscata pronta, state alla larga. Ingresso barricato! Cambio il caricatore! Di carico! Fuora del diversivo. È solo una fu... Un operatore alleato rimasto. Ultimo nemico rimasto. ��au. ... ... ... ... ... ... Missione a rischio, disinnescatore di bombe piazzato. Disinnescatore trovato, proteggete le bombe, disattivate il disinnescatore. Disinnescatore è stato disabilitato. Missione compiuta.